Siamo a Sarzana, C4 Comics, Meet the Web. Visto che non ci sono cosplayers, sapevo che non ci sarebbero stati, ma sono venuto per sicurezza. Offenderò gli stendisti e fumettisti, vieni. Abbiamo finito di fare disegni di merda. Insomma, beh quasi. Questi colori da quattro soldi poi. Fottiti. Siamo qua con una generazione che rovinerà l'umanità. Guardate che schifo. Inquadra i disegni. Inquadra i disegni. Guarda che merda, che merda i disegni. Ma vende quel fumetto lì? Le regali? No, il regalo? Io non mi approfitto delle persone. Che schifo, 3 euro. Via, tiriamo via tutto. Ti do una microfonata. Guarda se Cavazzano deve disegnare così, a merda. Siamo qua con l'Ulufetalesimo, l'avevamo già intervistati alla festa dell'unicorno. Vi siete voluti, non avete più gli elmi. No, adesso io sono stato ordinato a Monaco Domenicano, quindi io posseggo il mio vestito d'ordine. Cosa deve disegnare il buon Bob Ampeso? Diciamo un soggetto abbastanza originale che penso non abbia mai disegnato. Sasha Gray. Ok, ottimo direi. Ecco. Molto volentieri. Ma la farai nuda o vestita? Eh? Nuda o vestita? Surprise. Riprendi, riprendi. E visto che voi siete proprio per la punizione, no? Io picchio, come ti dicevo, i youtuber. Una bella mazza chiudata, mi suggerivi, a posto del microfono. Sì, al posto del microfono ho un paio di spuntoni qua, in modo che poi possa essere dato in testa e smettano di fare le solite verga fanciullate di cui si fan freggio. Disegno vagina. È una vagina arstratta, tu ci puoi fantasticare da. Questa è la vagina di Sacco e Me. È il classico barbone per strada che si trova a disegnare gratis il disegno. Basta. Oggi fiera sì, siamo tutti qui, l'oggi un costo è il più brutto di così. Tanto accedo sai, chi acchiapperai, e alla fine chi insulterai. Tanto accedo sai, chi acchiapperai, e alla fine chi offenderai. Tanto accedo sai, chi acchiapperai, e alla fine chi insulterai. Tanto accedo sai, chi acchiapperai.